No, uno slogan che distoglie i problemi, gli asili nido in Italia ce ne sono pochi, non perché ci sono gli stranieri che vogliono venire, la precarietà nel lavoro non è colpa degli stranieri, l'evasione fiscale non è colpa degli stranieri, la corruzione, la mancanza di lavoro non è colpa degli stranieri, è colpa di scelte politiche sbagliate fatte in questi anni, è colpa di politiche che hanno messo al centro il mercato, il profitto e non le persone. Cioè lei vuole dire che non sono gli immigrati a togliere il lavoro agli italiani? No, vorrei far notare un dato molto preciso, se lei guarda, dando a vedere i numeri, ci sono numeri che ci indicano che l'anno scorso sono di più i giovani italiani che sono dovuti andare all'estero a lavorare, sia che hanno studiato sia poveri che stanno cercando di lavorare che non stranieri che sono venuti nel nostro paese. Quindi questa è una sciocchezza in più, vorrei far notare che nel nostro paese sono quasi 5 milioni le persone straniere che lavorano, che pagano tasse, che pagano contributi. Vorrei ricordare a tutti che in molti casi chi cura i nostri figli, chi cura i nostri genitori, chi cura un anziano, a volte sono lavoratori, la stragrande maggioranza, sono badanti, straniere, senza le quali in molti casi non affronteranno la situazione. Quindi il messaggio che io vorrei dire, e colgo l'occasione, io ho trovato molto importante che in questi giorni ci sia stata una reazione, come ho sentito anche, che la gente si è stancata. Perché semplificare le cose, quando le cose sono complesse e difficili, è un modo per prendere in giro le persone. E allora io penso che noi dobbiamo usare l'intelligenza.